Credi Crea, episodio numero 1 Ciao e benvenuti a questo episodio di Credi Crea. Mi chiamo Michela Mitrani e questo è il podcast che vi aiuta a produrre, pubblicare e pubblicizzare in modo indipendente le vostre opere. In questo podcast svelo quali strumenti usare per dare vita al vostro libro e quali risorse rendono più semplice questo processo. Allora, devo farvi questa confessione, sono nervosissimo. Questo è il primissimo episodio, come vi ho detto dall'introduzione, del primissimo podcast che creo in vita mia. Quindi, ovviamente, non posso definirmi un esperto di questa nuova arte del parlare. Il podcasting è una risorsa relativamente giovane e vi spiegherò per quale motivo ho voluto creare questo nuovo medium di comunicazione per una materia alla quale io sono particolarmente appassionato, ovvero self-publishing e di rimbalzo, quindi, scrittura. Quindi, Credi Crea è il podcast per gli autori indipendenti e in questo podcast tratterò sia di scrittura che di self-publishing. Ora, ho pensato come primissimo episodio valesse la pena fare qualche presentazione, non solo presentare questo podcast, ma anche il sottoscritto. Chi sono? Che cosa faccio? Che cosa voglio? In realtà non voglio niente da voi. Quello che mi prefisso di fare con questo podcast è cercare di dare alcune risposte ad una materia affascinante e che sta avendo sempre più successo anche nel bel paese. Sempre più spesso ricevo domande da completi sconosciuti che mi chiedono diverse cose riguardanti proprio come pubblicare indipendentemente queste opere, le loro opere. Sempre più spesso ricevo da persone completamente sconosciute domande su questa materia, la pubblicazione indipendente. E io ho pensato proprio che creare un podcast fosse un modo alternativo per dare risposte a queste domande. Ora, chi è il sottoscritto? Mi chiamo Michela Mitrani, sono nato a Roma e vivo in questo momento all'estero. in Canada, a Vancouver, nella bellissima Colombia Britannica. Un avvertimento a questo punto. A volte mi sentirete fermarmi o magari mugugnare. Mugugnare qualcosa del tipo, come si dice in italiano? Siate pazienti, per favore. È normale. Dopo oltre 5 anni all'estero è un sintomo di un cervello che sta cercando di adattarsi alla nuova realtà in cui vive. Quindi, vi ho avvertito, metteteli in conto adesso che sapete questa realtà, insomma. Sono anche uno scrittore e un autore indipendente. Scrivo principalmente libri di fantascienza. Ho scritto la serie di fantascienza Ognologo, formata da 4 libri. Il terzo libro dovrebbe essere pubblicato nei prossimi mesi. Qualcosa mi rende ancora più nervoso di creare appunto questo podcast. Ho anche scritto libri che con la fantascienza non hanno niente a che fare. Libri di saggistica, di self-help. Ad esempio, ho scritto Confessioni di un autore indipendente, che è una specie di resoconto sulla mia avventura nella pubblicazione indipendente. Come ho iniziato, che cosa mi ha convinto ad iniziare. Le difficoltà, i vantaggi, le soddisfazioni. Di questo reame veramente interessante, ma a volte davvero complicato, chiamato self-publishing appunto. Ho anche scritto un saggio di scienze politiche, chiamato L'Alfa e l'Omega del Dragone, che analizza l'economia, la storia, la filosofia e la politica della Repubblica Popolare Cinese. E infine ho anche scritto un racconto breve, intitolato Quando i uomini sognavano petrolio, che è una storia che esplora l'impatto che i combustibili fossili hanno avuto sulla civiltà umana. Ora, oltre a questo, quindi il fatto di essere uno scrittore e autore indipendente, ho anche creato un sito. E il mio scopo nel creare questo sito era proprio cercare di dare risorse gratuite a persone come me interessate a pubblicare indipendentemente le proprie opere. Questo sito è credinellatuastoria.com che definisco il mio angolo di ciberspazio, nei quali scrittori e autori indipendenti possono trovare risorse per pubblicare indipendentemente i propri lavori. È attivo dal febbraio del 2016 e ha già dozzine di articoli, risorse varie come filmati, tutorial creati da sottoscritto che vogliono proprio rendere più semplice questa materia per gli addetti e o i non addetti ai lavori. Ora, perché è nato CrediCrea, questo podcast su scrittura e self-publishing? E una delle ragioni è sicuramente il mio interesse per i podcast, un interesse sempre crescente, devo dire, non solo per i podcast ma anche per il loro format. Trovo infatti che i podcast siano una risorsa incredibilmente facile da digerire. Uno può ascoltare un podcast mentre sta prendendo un autobus per andare all'università oppure sta andando in palestra o sta lavando i piatti. Insomma, questo è un tipo di informazioni che possono essere assimilate mentre si stanno facendo cose completamente diverse. Quindi questo fatto mi ha sempre affascinato, il poter apprendere mentre si stanno facendo altre cose. E la mia storia come ascoltatore di podcast in realtà nasce nel 2013 quando per la primissima volta mi avvicinai a questo reame ascoltando il podcast This Is Your Life di Michael Hyatt che è un autore bestseller, un imprenditore, uno scrittore, diverse cose allo stesso tempo. E in questo podcast lui parla di diverse cose come ad esempio scrittura, leadership, produttività. E questo è stato una specie di amore a prima vista perché dopo essermi abbonato al podcast di Michael Hyatt ho cominciato a sentirni diversi, vari, che orbitavano più o meno sullo stesso tipo di argomento, quindi leadership, produttività, scrittura, editoria. Un altro esempio è The Portfolio Life di Jeff Goins o per esempio uno dei più recenti che mi sta piacendo davvero tanto è il Read to Lead podcast di Jeff Brown e tutto questo quindi mi ha invogliato a iniziare il mio podcast. Prima di fare questo salto devo confessarvi che ho letto e seguito diversi corsi sul podcast come per esempio Producing Professional Podcast del famosissimo Richard Harrington e alla fine mi sono detto perché no proviamoci, buttati e adesso state sentendo il primo risultato e per le persone che non sono già scappate da questo podcast è arrivato il momento di spiegarvi il nome di questo nuovo prodotto dell'Ethere e ho deciso di chiamare questo podcast Credi Crea perché sento che viviamo davvero in un'era in cui le possibilità che ci sono offerte dalla tecnologia sono davvero virtualmente illimitate e ciò che separa l'immaginazione dalla realtà si è trasformato da una barriera impenetrabile ad un vero e proprio confine e sono convinto che una persona che crede fermamente alla propria storia che vuol dire al finire un proprio prodotto o finalizzare un'idea cercare di finire qualcosa che veramente vuole fare sia una pratica incredibilmente utile nell'era odierna perché alla fin fine siamo in quella che Seth Godin chiama la connection economy quindi è un'era in cui noi persone possiamo influenzare un numero incredibilmente grande di altre persone grazie alle idee che condividiamo o ai prodotti che vendiamo o alle storie che scriviamo quindi per questo motivo il nome Credi Crea credi alla tua storia creala per fare in modo di diffondere il contenuto della tua idea o del tuo prodotto o della tua storia questo quindi il significato dietro al nome Credi Crea ora devo dirvi che come primo episodio introduttivo penso che bassi aver spiegato un pochino chi sono e il motivo del nome di questo podcast spero che questo episodio di Credi Crea vi sia stato utile se lo è stato aiutatemi a renderlo più facile da trovare recensendolo su iTunes e condividendolo con amici e conoscenti questo è l'unico modo per aumentare la sua visibilità e permettere a sempre più persone di usufruire di questa risorsa se volete rimanere costantemente aggiornati su nuovi episodi su miei blog post o sulle mie pubblicazioni potete abbonarvi alla mia mailing list su www.credinelatuastoria.com lo ripeto è credinelatuastoria.com bene, vi lascio con un saluto e dandovi appuntamento al prossimo episodio fino a quel momento ricordate la vostra vita è una storia cominciate a raccontarla cominciate a raccontarla